Robotica, sonno, stress, cibo, sono le parole di Science and the City Young 2021. ICGB organizza quattro dialoghi sui temi di attualità scientifica che ci toccano da vicino, nella splendida cornice dell'Università di Trieste, dal 24 al 27 maggio. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18 e vedranno esperti della ricerca biomedica confrontarsi con il pubblico su tematiche legate alla salute e ai nostri stili di vita. Jacopo Sacquegno ci aiuterà a seguire il flusso delle informazioni con le sue mappe illustrate in tempo reale. L'ingresso è libero. Per partecipare vai sul sito www.icgeb.org e iscriviti sul forum dedicato. Ti aspettiamo!